Domenica 26 aprile 2015 al Palazzo Pretorio di Certaldo Alto si è inaugurata a pochi minuti la seconda mostra della rassegna Quattro elementi e un palazzo, i quattro elementi sono i quattro elementi naturali, l'acqua, il fuoco, l'aria e la terra che hanno dato vita a una rassegna partita nel mese di febbraio 2015 con la mostra personale del maestro Spezzino Roberto Braida e proseguita con l'odierna inaugurazione la mostra Ignis, ovvero il mio gesto del maestro Marcello Scarcelli insieme a me c'è Francesca Pinocchio, assessora della cultura del comune di Certaldo che pochi minuti fa di fronte a un folto pubblico come potete vedere dalle immagini ha inaugurato questa seconda tappa di un percorso ispirato a Expo 2015 Sì, il progetto espositivo hashtag for elements one palace è molto ambizioso intanto perché studiato e pensato nell'arco di un anno terminerà a gennaio 2016 ma anche perché voleva declinare i quattro elementi l'aria, l'acqua, il fuoco e la terra con il tema di Expo Nutrire il pianeta, energie per la vita un patrocinio che abbiamo ottenuto perché l'idea progettuale è piaciuta e quindi questo percorso espositivo è entrato in un ambito di tipo nazionale, noi ci siamo proprio immaginati palazzo pretorio cullato dall'acqua, scaldato dal fuoco in questo caso di Marcello Scarcelli, poi reso etereo appunto dall'aria ma come dico spesso al centro della terra in una programmazione culturale che ha appunto delle ambizioni di tipo globale perché poter far dialogare questi due contesti, quindi il palazzo pretorio con la sua tradizione e poi artisti di fama internazionale con la loro contemporaneità danno una lettura estremamente attuale del nostro modo di vivere oggi e quindi palazzo pretorio, Certaldo voleva proprio diventare un luogo di incontro di confronto, di scambio, di opinioni ma anche e soprattutto un arricchimento reciproco perché in questo caso noi abbiamo un contenitore, palazzo pretorio, che è meraviglioso che viene riempito di contenuti, un vero e proprio dono che fanno questi artisti a noi e che noi rimettiamo al nostro ospite, al nostro pubblico, a chi ci viene a visitare consapevoli che questo patrimonio di cui siamo i primi custodi debba essere conosciuto a livello mondiale Una rassegna molto impegnativa, non solo perché di lunghissima durata ma perché accompagnata da cataloghi tu ne stai impugnando due, sono la prima copia per il sindaco e la seconda ovviamente gerarchicamente per te che sei l'assessore alla cultura un impegno che l'amministrazione comunale ha potuto assolvere grazie al fiancheggiamento importante e determinante della Casa d'Arte San Lorenzo, ovvero di Roberto Milani e di Filippo Lotti curatore di tutta la rassegna, curatori entrambi di tutta la rassegna Assolutamente, il mio ringraziamento va in primo luogo agli artisti, sì ma questa idea progettuale se si è potuta realizzare lo si deve all'impegno della Casa d'Arte San Lorenzo e quindi con i suoi curatori Roberto Milani e Filippo Lotti perché come poc'anzi dicevo ci sono due linee, due direttrici fondamentali in questo percorso espositivo da una parte la organizzazione e quindi la programmazione lunga un anno dall'altra un patrimonio storico artistico come quello che stiamo vivendo all'interno di Palazzo Pretorio e quindi trovare la possibilità di un dialogo tra queste due direttrici con artisti di caratura internazionale è stato un compito difficile in cui si sono impegnati appunto Milani e Lotti perché sono riusciti senza compromesso veramente a far dialogare questo contenitore con i suoi contenuti lo dico perché questi artisti vivono la loro arte quindi senza un condizionamento da parte di Hashtag For Elements One Palace che vuol ricordare appunto l'idea progettuale e il percorso espositivo ma sono veramente eventi nell'evento artisti che si esprimono nel loro messaggio interpretativo quindi la loro arte in questo caso Marcello Scarzelli con Ignis il mio gesto perché dicevo l'artista è stato lasciato proprio libero di esprimere totalmente la propria creatività Bene grazie passo il microfono subito a Marcello Scarzelli che è stato chiamato ora in causa da Francesca Pinocchi perché Marcello ha sempre contraddistinto la sua espressione artistica nel segno della libertà da quando hai iniziato hai rotto tutti gli schemi della tradizione anche se vieni da una terra ricca di tradizione artistica ma la pittura astratta, la pittura libera da condizionamenti è sempre stata nel tuo DNA certo quindi questo compito l'hai assolto credo piacevolmente sì credo di sì ora racconto queste cose io 4-5 mesi fa ho fatto un sopralluogo ho saputo del progetto, dell'importanza anche del progetto del fuoco e quindi dell'attribuzione ho lavorato su quel tema, il fuoco ho fatto un sopralluogo con Filippo, con Lotti e sinceramente vedendo questo spazio si è rimasto affascinato mi è entrato proprio il fuoco dentro sinceramente ho cominciato a lavorare, a lavorare proprio come un matto facendo scultura, pittura, ceramica tantissime hai compendiato in questa mostra tutte le tue esperienze quindi il segno è stato il protagonista della cosa e come il fuoco tu hai segnato, ha marchiato queste tele con il tuo gesto infatti ha voluto dare in questo titolo il mio gesto con la tua eroenza, con la tua energia il gesto che parte come ho spiegato prima sulla presentazione fin da bambino fin da ragazzino ho cominciato a sgraffiare sulle lamiere rugginose e a disegnare libero sfogo alla tua fantasia, energia, vitalità sì, era l'unio sistema per dimostrare quello che volevo e tutt'oggi c'è continua questa cosa è anche un punto d'arrivo di una prima parte della tua carriera perché qui hai assemblato un po' tutto quello che è maturato in questi anni di esperienza noi ricordiamo alcune recenti importantissime mostre di Marcello che abbiamo seguito per la nostra rubrica una nel Palazzo Medicio di Serravezza un'altra al Museo Piaggio di Pontedera che sta divenendo uno dei luoghi espositivi più importanti del mondo dove si tengono rassegne veramente di grandissimo spessore ora noi cercheremo di raggiungere anche i due curatori della mostra Filippo Lotti e Roberto Milani ai quali credo Scarcelli debba un grazie soprattutto a Filippo che per te ma Filippo ti ha fatto Filippo è un amico ti ha seguito sempre come un fedele scudente sempre sempre come se fosse un fratello e allora noi vediamo di raggiungere perché il pubblico è tanto e sicuramente saranno a fare gli onori di casa nelle tante sale del Palazzo Pretorio che ospita questo evento espositivo Filippo Lotti è il curatore insieme a Roberto Milani non solo dell'odierna mostra Ignis e il mio gesto di Marcello Scarcelli ma anche dell'intera rassegna che è partita nel mese di febbraio con acqua la mostra personale del maestro Spezzino Roberto Braida e prosegue oggi con quella di Scarcelli a seguire ci sarà un omaggio anche all'aria e alla terra da parte di altri artisti dei quali ora ci parlerà lo stesso Filippo ovviamente invitando i telespietatori a intervenire non solo a questa mostra ma anche alle due successive che concluderanno il ciclo nel gennaio del 2016 Sì, tutto l'anno come dicevi siamo ospiti del comune di Certaldo e di Palazzo Pretorio sotto questo segno Astag for Elements One Palace Oggi sono particolarmente felice di essere qui sia per il fatto che veniamo a pochi mesi da questa bellissima inaugurazione della mostra Acqua di Roberto Braida che è stata un grande successo Braida oggi ha dimostrato il suo attaccamento a questa mostra e a questo palazzo e a questa amministrazione comunale essendo presente al vernissaggio di Scarcelli Presente oggi ma devo dire che è stato sempre presente tutti i fini di settimana partiva dalla Spezza e veniva qua a curare la sua mostra a prendersi cura della sua mostra e sono particolarmente felice appunto perché sono sicuro che questa mostra viscerà la precedente perché è una mostra bella, elegante e fatta con il cuore appena Marcello ha saputo di questa possibilità di fare questa mostra qui è voluto subito venire, studiare i luoghi è nata qui, è stata favorita anche dal feeling che lui, come ha detto poco fa nella presentazione al pubblico ha subito instaurato con questo palazzo Assolutamente sì in realtà io e Roberto Milani quando ci pensavamo a quale artista affidare il compito del fuoco e ignisse appunto la mostra di oggi abbiamo pensato subito a Marcello non solo per il fatto che lui è un vulcano in eruzione ma perché proprio col suo gesto segna marcatamente le opere è una pittura che viene dall'anima un'anima appunto di fuoco Roberto Milani insieme a Filippo Lotti ha concluso pochi minuti fa la sua presentazione al pubblico della seconda mostra della Rassegna ha donato le copie, le prime copie del catalogo che accompagna questa mostra come in precedenza un catalogo era stato pubblicato per la mostra di Roberto Braida all'amministrazione comunale nella persona dell'assessore alla cultura Francesca Pinocchi che consegnerà al sindaco Cucini che oggi era impegnato in altre incombenze istituzionali l'altra copia che avete donato Certo, un catalogo prezioso curato da me e da Filippo come hai sottolineato giustamente tu edito per i tipi di Bandecchi Vivaldi di Pontedera che accompagna il visitatore, il fruttore di questa mostra in un percorso, in un percorso fatto di segno di linguaggi, di forma e oserei dire anche forza perché questa è una mostra molto forte dove l'impatto fra vuoti e pieni fra luce e ombre fra colore e non colore devo dire determina una capacità di penetrazione nell'occhio e nell'anima di chi guarda decisamente forte Roberto, credo che i visitatori almeno i primi visitatori che hanno avuto accesso alle sale di Palazzo Pretorio siano rimasti sorpresi da questo melange un palazzo storico, medievale e una pittura modernissima non solo una pittura perché ci sono anche delle sculture delle ceramiche sempre ovviamente lette nella chiave di lettura del maestro Scarzelli ma devo dire che questa è stata una cosa un po' premeditata quando con l'assessore Pinocchi ci chiamò come Casa d'Arte San Lorenzo per curare questo ciclo di mostre devo dire che avevamo pensato immediatamente a giocare sui contrasti e Marcello Scarzelli fra gli artisti che avevamo sottoposto all'attenzione dell'assessore sicuramente è quello che sposa meglio di tutti proprio il concetto di contrasto antico, moderno moderno e contemporaneo oggi e domani quindi uno sguardo attento verso il futuro senza tralasciare ovviamente tutto ciò che è già stato detto nel passato si conclude qui il servizio realizzato domenica 26 aprile 2015 al Palazzo Pretorio di Certaldo Alto in occasione del vernissaggio della mostra Ignis il mio gesto del maestro Marcello Scarzelli vi ricordo che la mostra si concluderà il 14 giugno e sarà aperta al pubblico dalle 9.30 alle 13.30 e nel pomeriggio dalle 14.30 alle 19 di tutti i giorni della settimana la rassegna proseguirà poi con la mostra Iris di Antonio Porcarcano dal 4 agosto al 6 settembre e poi Terra, geografia di viaggio di Carina Cechic che si aprirà il 10 ottobre e si concluderà il 10 gennaio 2016 non l'abbiamo